Nella sede della città metropolitana di Torino, il comune di Alpette ha ricevuto la certificazione Heritage International per il suo polo astronomico, al termine di un pomeriggio dedicato alla presentazione delle attività scientifiche e didattiche del polo agli insegnanti e ai dirigenti delle istituzioni scolastiche. La prima sessione dell'evento, condotta dal giornalista scientifico Antonio Locampo, si è aperta con i saluti istituzionali della consigliera metropolitana delegata all'istruzione Barbara Azzara e del sindaco di Alpette Silvio Varetto. Il presidente dell'associazione Amici del Polo Astronomico Daniele Corna ha illustrato l'attività scientifica e didattica che si svolge ad Alpette. Il fisico Sabino Saracino è entrato nel dettaglio sulla strumentazione dell'osservatorio e del planetario e sui progetti di ricerca in corso nel polo. L'astronomo Walter Ferreri, direttore scientifico del Polo Astronomico, si è soffermato sugli eventi astronomici più importanti del 2018 e del 2019 e su come vengono seguiti ad Alpette. La seconda sessione si è aperta con il saluto della consigliera metropolitana delegata al turismo, alle relazioni internazionali e ai progetti europei Anna Merlin e con quello del presidente dell'UNCEM Marco Bussone. Ernesto Torti, autore di testi di divulgazione, ha poi parlato di come si può scrivere l'astronomia. Il progetto di CLIL, Content and Language Integrated Learning, che coinvolge il polo astronomico, è stato illustrato dall'associazione culturale linguistica educational e dal CESED, il centro servizi didattici della città metropolitana. La coordinatrice di Eriti Italia, Gaia Marnetto, insieme al professor Maurizio Quagliolo, segretario generale di Eriti, ha poi conferito la certificazione Eriti al Polo Astronomico. Intanto bisogna ringraziare la comunità tutta di Alpette e il comune perché è in grado di realizzare un progetto per tutti noi, per tutta la città metropolitana, utilizzando le bellezze naturali e quello che offre appunto il territorio. La loro idea è quella di sviluppare appunto un turismo scolastico, come dicevamo noi, grazie anche al contributo del nostro centro servizi didattici abbiamo, come vediamo anche nel catalogo che è appena uscito, abbiamo dei progetti insieme. In particolare con l'Acle realizziamo un progetto di CLIL sulle scienze e poi vi è un progetto appunto sull'ecomuseo presente ad Alpette e anche sull'osservatorio. Alpette è una montagna a mille metri, nell'area del Canavese siamo ai piedi del Parco Nazionale Gran Paradiso, quindi anche la nostra offerta di promozione turistica è legata alla cultura del territorio. Quindi cultura del territorio basata sul Polo Astronomico che consta di osservatorio e planetario e quindi può accogliere tutto il giorno 24H gli studenti che vogliono venire ma anche i curiosi e soprattutto gli studiosi. E poi il Museo del Rame Lavoro e Resistenza che è collegato ai sentieri outdoor denominati percorsi resistenti creano un turismo scolastico, un turismo per famiglie, un turismo compatibile con l'area del Parco Nazionale Gran Paradiso. Come Heritage che è un organismo internazionale per la certificazione della qualità del patrimonio culturale potrebbe sembrare strano dare particolare attenzione a un luogo di per sé diciamo contenuto nel numero di abitanti e anche nell'area che magari potrebbe esprimere. E questo non è vero perché innanzitutto quella che oggi è l'area metropolitana ma diciamo l'area provinciale di Torino e si è dimostrata sensibile fin dall'inizio dal 2004 a questo tema e soprattutto oggi un comune come Alpette sta dando l'esempio a comuni a volte ritenuti a torto da ragione più blasonati fra virgolette con una volontà di migliorare quotidianamente la propria offerta per il residente e per il turista anche e soprattutto culturale e scientifica come nel caso del Ecomuseo del Rame o del Polo Astronomico di Alpette che è un elemento essenziale in un momento di depressione economica come quello che stiamo attraversando di lungo periodo per rinnovare le possibilità anche di sviluppo locale.